Nuovi modelli di città, aggregazioni urbane al passo con le moderne esigenze di mobilità, interconnessione, servizi e decoro, dignità e vivibilità delle periferie e realtà intermedie a cavallo tra piccoli centri e zone rurali e poi evoluzione urbanistica sostenibile, aree verdi e proposte architettoniche che si fondono con il tessuto cittadino, città che poi vanno anche amministrate con nuove capacità e una sensibilità diversa dal passato. Questi i temi che sono stati affrontati dal Vice Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi, che ha aperto a Fano il primo appuntamento di Marche Europa. È a lui che abbiamo chiesto proprio come cambia in questo contesto del tutto nuovo il modo di amministrare le città. Noi viviamo su un pianeta che io ricordo sempre che non è il nostro ma che lo abbiamo avuto in prestito e quindi abbiamo il dovere di lasciarlo alle future generazioni nel modo giusto, nel modo adeguato, possibilmente in condizioni migliori di come lo abbiamo trovato, cosa difficile, ma almeno alle stesse condizioni di come ci è stato consegnato. Questo significa anche avere il rispetto soprattutto dell'ambiente, rispetto del pianeta, il rispetto dei luoghi, significa far crescere le comunità, le città, saperle amministrare. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire avere la capacità di guardare al futuro, di rispettare l'ambiente, di rispettare il territorio. Naturalmente è tutto in funzione di una crescita, anche economica, perché la crescita economica porta ricchezza, porta lavoro. E quindi nel momento in cui si fanno crescere le città bisogna saperle pianificare, ma bisogna saperle anche amministrare. Il cittadino nel momento in cui va a abitare in un luogo lo deve saper vivere, deve essere per lui un luogo e non un non luogo, e deve avere la capacità di avere i servizi a portata di mano. Questa crescita, se sarà equilibrata, e quindi se ci sarà questo parallelismo fra la crescita e i servizi, credo che chi amministra e chi pianifica avrà fatto un buon servizio non solo ai cittadini di oggi, ma anche alle future generazioni. Oltre al modo è necessario un cambiato modo di approcciarsi alla crescita urbana, che è completamente cambiata nel tempo. Però c'è una carenza da parte della Regione Marche in questi anni, che è evidenziata ogni volta che si iniziano a parlare soprattutto di ricostruzioni, che è quella della legge urbanistica. La legge urbanistica è datata a 1992 e oggi le mutate esigenze, le condizioni economiche e anche la volontà di recuperare il costruito, i centri storici, così come di rafforzarli e renderli meno fragili e al rischio degli eventi sismici, meriterebbe un'attenzione più importante che dia la possibilità anche alla piccola e media impresa di partecipare a una grande ricostruzione, a una grande ripianificazione urbanistica in chiave moderna. Grazie.